Rimasta indenna l'allerta rossa di venerdì scorso, la frazione di Cabanna a Rezzo Aglio si lecca ancora le ferite conseguenti all'alluvione del settembre 2015. Questa è stata sicuramente la frazione più colpita dal fenomeno. Diciamo che a un anno di distanza le condizioni di vita sono tornate più o meno alla normalità. Un'azione corale residenti istituzioni volontarie ha consentito di ripristinare l'agibilità di gran parte delle abitazioni, fatta eccezione per la casa di riposo abitata da nove anziani ed evacuata non senza difficoltà nella notte dell'evento alluvionale. Questa tuttora è inagibile, nel senso che durante l'evento è stata allagata, quindi ci sono stati dei danni ingenti, gli ospiti sono stati trasferiti in un'altra struttura e presumiamo al più presto di intervenire per cercare in qualche modo di renderla di nuovo agibile. Un'altra frazione del comune colpita dalla furia delle acque è stata Mileto, in questo caso ad esondare è stato il rio Scabiamara. Esondato ha allagato tutta la piana e ha allagato anche delle abitazioni nel paese diciamo. Noi siamo intervenuti liberando appunto l'alveo da metri cubi di detriti che negli anni poi si erano accumulati. Da anni si sono contati anche a Priosa, Rezzoglio Inferiore, Alpe Piana e Farfanosa. In questo anno l'amministrazione ha provveduto alla messa in sicurezza dell'abitato attraverso interventi nell'alveo dei corsi d'acqua, principalmente nel torrente Aveto. Siamo riusciti in più punti ad asportare circa 10.000 metri cubi di materiale, che sono molti, e a movimentarne all'interno sempre degli alveo e altre tanti. L'opera è stata realizzata grazie ad un contributo regionale. Un costo di circa 350.000 euro. È stato sicuramente un aiuto fondamentale. Il Comune non sarebbe riuscito con le proprie forze a realizzarli.